Allora ragazzi ci teniamo a fare un video ringraziamento per annunciarvi questa cosa, perché ringraziamento? Perché noi potremmo dire che il risultato ottenuto dipende dallo sforzo che abbiamo fatto con i corrieri e non sarebbe una bugia perché certamente abbiamo rotto un pochino le scatole ai corrieri per avere dei prezzi migliori, tuttavia non l'avremmo mai potuto fare senza i volumi in mano, cioè noi facciamo tot spedizione, ci dai una mano e quindi il merito in realtà va a voi e quindi con grande piacere che vi annunciamo questo grosso cambiamento che parte oggi e speriamo di portarci avanti il più possibile di sicuro per tutto novembre e quindi da oggi non avete più la soglia minima di spedizioni a 75 euro ma a 29 e GLS che al momento era il corriere più costoso, scende da circa 7 adesso non ricordo a circa 4 quindi è un ottimo vantaggio per tutti. Che sia questo l'inizio di una competizione ancora più cattiva tra i corrieri e quindi magari in futuro avremo condizioni ancora migliori? Non lo sappiamo. Noi ce la metteremo tutta ma come al solito così come il merito di questa vittoria dipende da voi anche i risultati che avremo in futuro dipenderanno dalla vostra fiducia nei nostri confronti. Quindi ne vedremo delle belle e consideriamo questa una delle belle notizie relative a questo Black Friday che come vi ho anticipato in altre occasioni gli iscritti alla nostra newsletter lo sanno, sarà sicuramente il Black Friday più ricco, più vantaggioso di sempre. Grazie a tutti.